Musica tutta la morte musulmane che sono le nostre sorelle, che abbiamo deciso di fare la nostra città più bella e di coprirla, di coprire delle scritte imbarazzanti, delle scritte che stiamo appesando il nostro pensiero. Ciao, siamo il capitato del Cinghione Centaria e questo 8 marzo vogliamo condividere con voi le parole del movimento delle donne culte, camminiamo oggi giorno verso la rivoluzione delle donne, il movimento delle donne culte in Europa, il 3G3, siamo benvenuti all'automazzo del 2013.